carburanti oltre i 2 euro parliamo delle delle benzine dei distributori di carburante per le auto per i mezzi di trasporto il pieno torna ad essere un salasso lo stop alle agevolazioni fiscali si ripercuote sulle tasche degli automobilisti la mappa dei prezzi ai self di belluno il diesel non è mai sotto 1 virgola 830 e i gestori puntualizzano non siamo noi a guadagnarci ecco oggi cominciamo così la rassegna stampa di radio piave in blu condotta dai giornalisti dell'amico del popolo buongiorno a tutti da luigi guglielmi buon giovedì 5 gennaio lo sapevamo le misure del governo draghi per cercare di contenere il prezzo dei carburanti misure di cui ci siamo che di cui abbiamo goduto per mesi si sapeva che avrebbero avuto un termine e adesso vediamo cosa riesce a fare questo governo sapete e alla fine è sempre questo discorso stare all'opposizione e denunciare le cose magari anche con una finalità così un po di populismo lo dico in senso buono insomma è più facile che governare e poi in concreto trovare i provvedimenti giusti adesso vediamo però il fatto che aumentino bollette varie tra cui anche il gas e che le benzine tornino sopra i 2 euro sicuramente sulle nostre tasche sarà un grosso un grosso peso vediamo se questo governo riuscirà a mettere in campo qualche azione come aveva fatto magari senza troppi proclami il governo draghi prima fatto sta che adesso costa tantissimo andare a far benzina e l'articolo di gigi sosso a pagina 17 saltiamo subito pagina 17 approfondisce qual è la situazione su belluno che poi ci dà un riferimento per tutta la provincia no ecco qui pagina 17 del corriere delle alpi stop ai bonus carburanti sopra i 2 euro ma i nostri guadagni non sono cresciuti il ritorno della fiscalità piena ha fatto impennare i prezzi alle stazioni di servizio per il diesel non si scende sotto 1,830 allora il problema eccolo qui sono le le misure del fisco alla fine che fanno costare così tanto le benzine in italia lo sappiamo bene insomma una parte del del costo che paghiamo la pompa insomma va a finanziare le casse dello stato insomma il 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 c'è una tabella in questa pagina che in questo senso risulta anche significativa e utile riferisce quali sono le componenti della cisa sui carburanti allora già dal 1956 c'è stato il finanziamento a supporto della crisi di suez che ha aumentato al litro le benzine di 0,007 23 adesso non sto qui a dirvi però paghiamo anche una misura introdotta nel 63 per la ricostruzione dopo il disastro del vaiont poi la ricostruzione dell'alluvione di firenze poi la ricostruzione del terremoto del belice ricostruzione del terremoto del friuli ricostruzione del terremoto dell'irpinia finanziamento alla cultura nel 2011 tutti 0,000 però dopo ci metti li sommi tutti alla fine viene viene tanta roba per esempio non sempre abbiamo avuto cifre contenute 0,01 è stato nel 96 per il finanziamento della missione onu in bosnia lo sapevate nel 1982 per il finanziamento della missione onu in libano tanto tanti soldi perché questo era 0,1 euro sul litro finanziamento della crisi migratoria libica 0040 2011 ricostruzione alluvione toscana e liguria insomma io adesso non vado non vado avanti se volete qui nella pagina 17 abbiamo detto del del corriere delle alpi trovate nel dettaglio quante cose finanziamo quando mettiamo un litro di benzina nel nostro serbatoio un pieno di rabbia dice l'articolo di gigi sosso l'automobilista medio si è svegliato male il primo dell'anno e magari aveva già dormito poco per gli strapazzi del veglione stile gigi sosso è inconfondibile stop agli sconti ritorno alle accise intere comprese quelle che non avrebbero più ragione di esistere e chi doveva fare rifornimento ha dovuto pagare di più parecchio di più nei giorni successivi i prezzi di benzina verde e diesel hanno continuato a crescere in una continua impennata fino a sfiorare o sfondare nel caso del servito o di specialità particolari i 2 euro come nel marzo dell'anno scorso quando era appena cominciata l'invasione russa dell'ucraina per fare degli esempi ieri mattina belluno il self service costava 1,925 per il diesel 1,857 per la verde all'eni alla ip 1833 1,833 uguali benzina e diesel 1,859 1,799 alla q8 alla esso 1,874 1,829 e via discorrendo qui ce li indica tutti il servito invece arriva anche a 2,145 e 2,077 sempre diesel e benzina alleni e il diesel plus addirittura 2,245 i prezzi purtroppo sono tornati quelli normali sottolinea carlo buratto del sindacato bellunese benzinai al netto dello sconto sui carburanti previsto dal governo cioè non c'è più lo sconto ma lo si sapeva e previdenti sono stati quelli che hanno fatto rifornimento nell'ultimo giorno utile infatti si vedeva qualche coda a belluno nel giorno di san silvestro c'è anche una foto qui sotto tra l'altro la coda prima degli aumenti nel pomeriggio del 31 dicembre si era registrata una colonna a belluno dal distributore di carburante lungo tutta via feltre non era per un veglione lontano ma per il pieno in vista dell'imminente impennata dei prezzi lo si sapeva appunto che sarebbero state tolte le misure del governo Draghi non sappiamo dire dice questo rappresentante dei benzinai per quanto tempo durerà questa tendenza dipenderà dal mercato ma non sparare sul gestore perché è quello che ha meno responsabilità sul conto finale e ancora è questo rappresentante dei benzinai a parlare i prezzi aumentano e questo è davanti agli occhi di tutti ma il margine di guadagno alla pompa è sempre quello 4 centesimi al litro che vuol dire che bisogna venderne tanto di carburante per poter campare sono le aziende petrolifere a fare il prezzo l'uomo non ci mette neanche più mano pensate tutti i clienti si improvvisano benzinai perché i prezzi del servito sono ancora più proibitivi allora ciascuno si arrangia da sé la quota di chi si fa aiutare dal titolare è del 30 per cento al massimo dunque del tutto marginale se per questo abbiamo nella nostra provincia dice sempre buratto abbiamo nella nostra provincia anche aree di servizio che praticano soltanto il fai da te perché non trovano personale disponibile a lavorare su un margine di guadagno così basso dunque io adesso mi fermo con questo articolo che vi invito a leggere a pagina 17 del corriere delle alpi andando ad acquistare questo giornale oggi oggi che giovedì ricevete anche l'amico del popolo nelle vostre case tra l'altro l'amico del popolo con l'almanacco dei maggiori fatti del 2022 tra questi ricordiamo la beatificazione di papa luciani ricordiamo la morte di del vecchio ecco solo per dire due il grande incendio che c'è stato in primavera nel longaronese per dirne tre insomma ecco abbiamo ripercorso in un almanacco i fatti maggiori dell'anno scorso se volete è sull'amico del popolo chi è abbonato lo riceve l'ha ricevuto ieri lo riceve oggi lo si trova anche in edicola andate ad acquistare anche il nostro giornale allora sulla prima pagina c'è la foto grande centrale sulla prima del corriere delle alpi sui saldi che adesso iniziano la stagione dei saldi al via subito ribassi fino al 70 per cento in giro per negozi a caccia di maglioni e di scarpe sistemate le ultime scritte la foto di copertina e di perona che salutiamo pronte via apre oggi la stagione dei saldi invernali cosa si potrà trovare nei vari negozi quali articoli che andranno per la maggiore e le offerte più allettanti ci saranno subito grandi sconti oppure partiranno leggeri per andare man mano a salire vediamolo dice il lancio poi firma ferigo girando per i negozi di belluno a pagina 19 l'approfondimento allora altri titoli da questa prima del corriere del corriere delle alpi cicogna stanca oggi c'è un modo di titolare di scrivere piuttosto scherzoso insomma che gioca con le parole con le immagini all'ospedale di belluno cicogna stanca il primo nato dell'anno dopo quattro giorni specchio dei tempi nell'ospedale del capoluogo di una provincia in piena crisi demografica questo è drammatico ci si scherza sopra perché è giusto comunque guardare le cose con così anche con il giusto distacco che ci permette di capire che cosa sta succedendo nel capoluogo di una provincia in piena crisi demografica come la nostra le prime cicogne del 2023 sono atterrate soltanto ieri ieri che era il 4 gennaio non l'uno non il due non il tre alle 3 e 27 è nato luis è qui non non provo a pronunciare coppia di sedico nuovo vagito in sala parto a distanza di poche ore alle 9 05 è venuta alla luce una bambina a rei per la gioia della mamma e del papà di valle di cadore questa è la situazione nascono a belluno appunto da sedico da valle di cadore perché nessuno non si può non è che che qui ne sono nati pochi e in cadore tanti no non nasce nessuno nascono pochissimi bambini tra l'altro tutti e due figli di stranieri in questo caso qua di coppie di stranieri venuti a belluno residenti qui in provincia di belluno e meno male che ci aiutano loro a tirare su perché sennò in questo momento fino ad oggi il titolo sarebbe nessun bellunese nato finora all'ospedale di belluno cose veramente pesanti 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 decidiamoci a capire che questo è il problema numero uno e dobbiamo fare qualcosa per risolverlo cortina villaggio atleti tempi rapidi senza conferenza di servizi tempi più rapidi per la realizzazione del villaggio olimpico sarà mobile e non servirà quindi una conferenza dei servizi lo assicura il sindaco lorenzi ecco per esempio mi verrebbe da chiedermi no questo titolo il villaggio degli atleti che sarà mobile a cortina le olimpiadi avranno un riflesso sul nostro spopolamento bisognerebbe che ogni azione che mettiamo in campo in provincia di belluno ci chiedessimo sempre quali ragionevoli ricadute positive potrebbe avere contro lo spopolamento e così questa a me verrebbe da rispondere in questo caso in particolare ma anche sul caso delle olimpiadi si potrebbero avere un riflesso questo annuncio di del sindaco de bernardin di rocca pietro che avvisa che tra un anno cioè all'inizio del 2024 forse qualche mese in più dovrebbe essere pronto gliel'ha detto l'assessore al turismo caner l'assessore regionale turismo caner che ieri era da quelle parti dovrebbe essere pronto l'impianto da malga ciappela fino a metà diciamo della salita che va su al passo fedai avete presente quell'impianto che che era già da sostituire poi ci si è messa quella valanga di qualche anno fa fermato tutto fatto sta che il raccordo giù con malga ciappela in questi anni non è più stato possibile e quella quell'impianto era fondamentale perché uno pensa marmolada solo per sciatori espertissimi no non è così perché malga ciappela usava proprio quell'impianto a rei 1 a rei 2 si chiamava per portare gli sciatori fino a metà della salitona del fedaia quella che conosciamo bene per il giro d'italia anche chi non è sciatore ecco e da lì è ridiscendere a malga ciappela con una discesa dolce l'ideale per imparare a sciare infatti molte scuole sci con i piccoli anche utilizzavano proprio quella zona lì per le prime sciate un po come succede sul nevegal con le piste facili del del nevegal ci servono questi impianti queste zone dove lo sciatore non esperto possa esercitarsi poi una volta arrivati su con l'impianto a metà salita da lì cominciano gli impianti l'impianto del padon che consentono di andare verso il passo fedaia verso dal padon in giù verso arabba quindi innestarsi nel super ski dolomiti nel cellaronda ecco insomma per cui malga ciappela dall'anno prossimo dal punto di vista sciistico sarà di nuovo collegata con il resto del mondo stiamo parlando di zone dove la neve ancora per fortuna arriva quindi lì ha anche senso onestamente investire no a processo per le immagini proibite della ragazzina a processo per le foto proibite di una sedicenne figlia della sua nuova compagna trovate nel suo computer qui le vicende del tribunale ci vengono raccontate da gigi sosso volevo farvi vedere questo titolo in basso sulla prima del corriere poi passiamo al gazzettino cortina in festa con le regine della velocità coppa del mondo di sci cortina andando avanti per la sua ad essere palcoscenico internazionale e meno male quanti anni sono che ospita la coppa del mondo di sci femminile e quante volte cortina è stata la stazione sciistica del recupero per le gare che saltavano da altre parti per assenza di neve cortina sempre riuscita a garantire al meglio perché con grandissima soddisfazione degli staff e delle atlete insomma è sempre riuscita a garantire al meglio le gare anche quelle di recupero è capitato che ne abbia svolto anche due tre competizioni compresi recuperi insomma invece che uno solo renate gocci ania person e le altre atlete che hanno fatto la storia della coppa del mondo di sci femminile si ritroveranno a cortina il prossimo fine settimana nella trentesima edizione dell'evento che finalmente ritroverà anche un vasto pubblico di appassionati e club e noi facciamo l'in bocca al lupo anche per tutta l'organizzazione che questi nostri conterranei riescono a mettere in campo in questi casi bravissimi a proposito di energia carburanti costi eccetera la prima pagina del corriere del scusate del gazzettino dove andiamo adesso e ci propone un tema particolare no lauredana marsiglia sente il senatore luca de carlo il senatore cadorino luca de carlo è l'unico bellunese che abbiamo in parlamento e lui dice il futuro centrali a biomasse il senatore de carlo esclude altri sconti per il riscaldamento nelle zone di montagna come quello che esiste da oltre vent'anni sganciare il nostro territorio dai combustibili tradizionali grazie ai nostri boschi diventeremo un modello per l'italia e qui se vogliamo si torna sempre alla solita questione belluno con le sue caratteristiche è giusto che venga governato questo territorio secondo i criteri che possono valere a padova treviso a venezia milano probabilmente no perché se abbiamo delle risorse particolari è giusto che noi bellunesi abbiamo la forza l'intelligenza la visione per mettere in campo dei modelli diversi che non è detto che siano replicabili altrove se lo sono tanto meglio ma comunque che vengano incontro alle nostre specifiche esigenze bene fa il gazzettino bene fa la collega marsiglia a fare questo approfondimento c'è un errore poi qui all'interno del lancio che adesso vi faccio notare ma una svista solo divertente ci capiamo lo stesso c'era una volta scrive marsiglia lo sconto di 0,12911 centesimi sul combustibile riscaldamento per le zone di montagna poi la quota si è ridotta e di reintegrarla non se ne parla proprio perché se è vero che i montanari spendono tanto il riscaldamento spiega il senatore de carlo è altrettanto vero che al sud si spende per il climatizzatore paese che vai usanza o necessità che trovi ma i rinforzi per le bollette rovina famiglie non mancano abbiamo messo 20 miliardi sui 35 della manovra qui c'è scritto afferma de luca beh non è che stiamo parlando di vincenzo de luca presidente della campagna è chiaramente una svista perché luca de carlo è diventato de luca invece quindi afferma de carlo a parte di scherzi e scontato abbiamo scontato l'iva del pellet il futuro non sarà più fatto di bonus ma di centrali a biomassa belluno diventerà un modello e qui c'è l'approfondimento no che merita di essere di essere letto noi qui non lo facciamo però l'invito è ad acquistare il gazzettino questo è un tema che veramente merita la nostra attenzione gazzettino di belluno di oggi basta aiuti una tantum c'è il titolone a pagina 2 scaldiamoci a biomasse il senatore de carlo esclude sgravi per la montagna che già gode di un taglio in bolletta il futuro è nei boschi diventeremo un modello qui c'è sospesa la la questione dei crediti di carbonio che sembrava dover finire nella legge sulla montagna poi doveva essere recuperato l'articolo nella finanziaria de carlo aveva lasciato capire che c'erano buone speranze alla fine nel tira e molla della finanziaria che anche quest'anno abbiamo visto in parlamento è quella norma è saltata come mai noi bellunesi molto spesso vediamo saltare le norme che ci riguardano forse non sappiamo essere abbastanza convincenti nel farceli adottare probabilmente sarà anche il fatto che de carlo è uno questo è e questo è frutto della legge elettorale che ha ridotto i numeri del dei parlamentari che abbiamo voluto anche noi perché sembrava che fosse una spesa inutile c'era stato detto invece probabilmente non era una spesa inutile avere giù più rappresentanti in parlamento dobbiamo pensarci prima e il carburante l'altro titolo nei paesi di montagna costa di più questo è l'altro titolo sempre nella stessa pagina due titoletti che vi leggo la vera strategia è sganciare il più possibile la montagna dai combustibili tradizionali questa è l'idea di de carlo roger de menek l'ex parlamentare è un'emergenza il tema di un differenziale andrebbe rilanciato però appunto con i differenziali facciamo i conti poi con chi ha bisogno del climatizzatore e forse appunto è solo un discorso di maggiore libertà autonomia per poter gestire al meglio le proprie risorse e incentivi per poterlo fare claudio fontanive qui approfondisce a pagina 3 in veneto i pensionati bellunesi sono i più poveri spi cgl stima quasi 300 euro solo per la spesa in più all'anno una situazione drammatica per i pensionati e poi i rincari delle case di riposo aumenti che potrebbero arrivare anche nell'ordine del 10 per cento significa un aggravio medio di circa 200 euro mensili che sono tantissimi su un altro guasto l'elicottero soccorsi sospesi falco a terra per la rottura delle pompe di rifornimento e l'ulso oggi le verifiche non c'è pace per falco ad appena cinque mesi dall'inaugurazione della nuova base di pievedicatore l'elicottero è rimasto a terra già due volte l'ultima ieri quando si sono rotte le pompe di rifornimento ed è stato necessario sospendere il servizio dell'isoccorso l'ulso spiega che oggi ci saranno le verifiche con le ditte coinvolte per una rapida soluzione e che si è attivata anche per individuare soluzioni alternative per assicurare servizio nel caso si prospetti un fermo più lungo rocca pietole a proposito i soccorsi si perde sulla pista da sci ritrovato dai carabinieri si era perso sulla pista da sci non ricordava il numero di telefono dei genitori il rebus è stato risolto dai carabinieri della stazione di cana 6 è avvenuto in territorio di rocca la fotona centrale c'è un camion pazzesco motori piogge fango nel deserto per fiori e i de lorenzo cadorini alla dakar come sulla neve il camion man 4x4 condotto dall'equipaggio dei gemelli aldo e dario de lorenzo cadorini di pieve e da umberto fiore di calalzo sta affrontando una dakar anomala nel deserto arabo tra pioggia e fango sembra di essere sulla neve belluno patinaggio in città 4000 sulla pista belluno via i saldi ogni cliente spenderà 140 euro e poi questa notizia a cui avremmo dovuto dedicare anche più spazio firma sempre marsiglia troppi allagamenti maxi canale dal lago al piave un canale di tubi in cemento correrà parallelo al rai tra cadola e il lago stiamo parlando del lago di santa croce avrà la funzione di catturare le acque di superficie sappiamo che lì è un problema come sempre quello degli allagamenti nella zona che non per caso si chiama paludi avrà la funzione di catturare le acque di superficie in caso di maltempo per scaricarle poi nel piave quindi tornando indietro tornando a monte evitando così allagamenti della zona dell'alpago un'opera da quasi due milioni di euro finanziata dalla regione del veneto portata avanti dal braccio operativo dei servizi forestali con questo intervento invece ha spiegato l'assessore regionale la difesa del suolo bottacini si metterà fine alla criticità irrisolta che riguarda la gestione delle acque meteoriche nell'area industriale di paludi acque che non scaricano per via dei dislivelli perché la piana ricordiamoci che deriva dal blocco del corso antico del piave che dal lago di santa croce scendeva giù verso vittorio veneto il piave poi è stato deviato dalla mega frana del fa d'alto diecimila anni fa e quella piana è rimasta alluvionale provincia tra obiettivi per il 2023 strade rifiuti e legge sulla montagna e noi ci fermiamo qui vi auguro una buona giornata buon giovedì 5 gennaio da luigi guglielmi grazie a tutti